A Giulianova l'amministrazione comunale chiede ingenti, somme, alleni e SPA reclamando tributi mai saldati. La società capitolina è titolare della concessione per la coltivazione di idrocarburi ed è proprietaria della piattaforma FISA Offshore per la coltivazione e il trattamento di idrocarburi denominata Eleonora, ubicata nel mare territoriale del comune di Giulianova. Sulla gazzetta ufficiale del 10 maggio ultimo scorso è stato pubblicato appunto con un decreto del MEFI comuni a cui spetta l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine. Fra i 27 comuni d'Abruzzo ci sono Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi e quindi anche noi ci siamo attivati capendo appunto entro le 12 miglia quale fosse la piattaforma di nostra competenza. E' risultato la Eleonora che è di proprietà dell'NSPA e quindi abbiamo iniziato un'attività di accertamento. Le piattaforme come la Eleonora sono soggette a imu e tasi e in mancanza di rendita catastale la base imponibile è costituita dal valore di bilancio, secondo quanto stabilito da un decreto legge del 1992. In sostanza il valore della piattaforma è costituito dall'ammontare all'ordo delle quote di ammortamento che risulta dalle scritture contabili. Abbiamo verificato che dal 2015 al 2020, quindi prima dell'entrata in vigore della legge, la piattaforma non aveva presentato alcuna dichiarazione in mutasi, benché ne fosse soggetta. Quindi abbiamo predisposto già per l'anno 2015, già dall'anno scorso, un'attività di accertamento. Quindi abbiamo fatto un avviso di accertamento. Stiamo aspettando ovviamente che si discuta in commissione la data di discussione per poter riscuotere delle importanti cifre, oserei dire. Diversi milioni di euro.